Il primo modello realizzato autonomamente dal neonato brand Cupra è ora realtà, la Formentor appena presentata al Salone di Ginevra è un SUV prestazionale di categoria C. Rappresenta una finestra sul futuro del marchio ed ha come punti di forza del design la bellezza delle proporzioni, la potenza delle linee, l'eleganza delle superfici e la magnificenza dei colori. Basta guardare la cura maniacale delle mani esperte che l'hanno creata per assaporare l'unicità di questo oggetto del desiderio. La linea affilante ma muscolosa con la continua alternanza tra forme concave e convesse si differenzia dai profili più spigolosi dei SUV SEAT. Il look inconfondibile della vettura è accentuato dalla soluzione del led posteriore che corre senza interruzione per l'intera larghezza del portellone. Inferiormente troviamo un ampio diffusore che integra i quattro scarichi. La cura per il dettaglio che Cupra ha impiegato nella progettazione e realizzazione della Formentor si può notare anche a bordo. La prima cosa che colpisce sono i sedili supersportivi dal design inedito, che assieme al volante tagliato inferiormente e alle cuciture a contrasto rendono l'abitacolo davvero sportivo. La plancia appare sospesa emergendo dal livello inferiore, al centro di essa troviamo il nuovo sistema di infotainment a tablet da 10 pollici che lavora in sintonia con il digital cockpit per rendere accessibili tutte le info necessarie. La prova su strada nel nuovo Formentor ci mostrerà anche le sue doti dinamiche che, grazie al propulsore ibrido da 245 CV, i fralli, promettono bene. Grazie a tutti! Grazie a tutti!